salve amici fratelli della congrega lo so il mio viso infastidisce sono molte persone in viso anche perché a viso aperto non sarebbero facciate come lo sono codardamente dietro una tastiera ma questo è un altro discorso la questione mi sta molto a cuore ma in verità non me ne può fregare di meno attenzione però che se mi farete arrabbiare di meno sì sì ci vuole il tempo presente per molto tempo più assente dobbiamo pensare al futuro quindi vi menerò crimes of the future ma come mi vengono così sono un luminare quello è un lampadario sono un illuminato allora io non transigo ho recensito crimes of the future in 2 in due versioni sta andando fuori sincrono la registrazione e sghemba mentre qui di gamba a cavalette chiuso le finestre non entrerà nessuna cavaletta allora uomini che adorate la mosca lo so uomini trasformisti delle vostre idiozie che mi attaccate e vi celate vi camuffati dietro maschere queste sì avverrante io sono come questo qui mi sono ricreato in maniera falottica o robotica Peter Waller Robocop vi consiglio uno dei primi film di Abel Ferrara con l'attrice protagonista di Top Gun della maschera di scimmia cioè Kelly McGillis una scena hot hot like hell una donna cliente infernale io sono un cornuto no ricordate lucifero e vergine con chi ha scopato con nessuna invece non lo so più ora dicevo uomini nudi uomini che esponete le vostre nudità esistenziali no carnali su instagram l'unica recensione attendibile che si trova online su da roma view cinema poi ne esiste un'altra ecco voi siete inesistenti voi vivete virtualmente siete dentro una videodrome sì una videoteca omonima di Livorno no in un'esistenza sì ci vuole lo spelling la mosca zezze allora sì nel Mulona Lynch non David Cronenberg Mulona Lynch il mio sito su da roma view una recensione qualcuno mi ha corretto Stefano cosa hai scritto un obrobrio è orrida questa pettinatura no questa scrittura com'è che fuori sintonia questa registrazione verrà un po' alla Enrico Gezzi mentre sto renderizzando siamo oltre il 70 per cento l'assassino di Jesse James Robert Ford e lui Dominic non dicevo adesso non perdiamoci in chiacchiere e cerchiamo di non smarrire i capelli è una recensione da strapparsi i capelli la mia allora Stefano qui non ci vuole l'elisione ci vuole la derisione allora ci auguriamo sì ho poetizzato c'è ci auguriamo ok poi ho corretto un altro piccolo pezzo e tutti i pezzi del mio puzzle no del puzzle adesso tornano in un mosaico splendido in una recensione da incorniciare questo è il sorriso alla gioconda ora Francesco Allono nel Falò su Bad Taste soltanto tre minuti poco più bisogna abbonarsi ora definì Crimes of the Future sicuramente senza ombra di dubbio e anche forse del diavolo dicevo il film più brutto è veramente bruttino con tutta la stima che posso riservare a Croni il mio amico mi sta facendo una testa così ti telefonerò ti spiegherò beh lui ha studiato filosofia è un film per cui coloro che amano filosofeggiare praticare masturbazione non onanismi ecco veri ma mentali ecco loro ne vanno matti per questa roba qui questo è Puss Underground come sostenne Nanny Moretti no è ridicolo dai sembra su un seggiolone sì poi vorrei illustrare i miei haters che dovrebbero aggiornarsi ora capisco cosa intesero quando mi consigliarono il film l'amico d'infanzia perché loro sono fermi all'infanzia quando venivano qua mi guardavamo Rocchi tante cose sono successe ricordate ci sono degli elementi anche burocratici che sono stati attestati io scrivo per una testata vi prenderò attestate ah mie testoline no dicevo qui è contenuto un pezzo così tradotto la burocrazia è un male come il cancro un allontanamento dalla direzione dell'evoluzione del fritto potenziale azioni differenziate indipendenti verso la parassitarietà completa del virus sì questo Vigo Mortens fatto ridere Alò sostiene che per sostenere questa prova e per arrivare alla fine delle riprese forse in post produzione hanno aggiunto la raucedine e il mal alla gola riprodotto di suoni onomatopeici a Vigo Mortens perché se spacca la laringe vabbè è brutto brutto insalvabile questo film e cronni oramai 80 anni oramai l'abbiamo perso completamente qui c'è il doppiaggio un po' la Giancarlo Giannini che ieri ha compiuto 80 a primavere ma siamo in estate ora uomini voglio illustrarvi chi sono non me ne può non ce ne può fregarte meno ecco gli indifferenti ah questa società che crea delle differenze, delle disparità una società iniqua dobbiamo combattere per valori edificanti poi tutti vogliono essere ficcanti e primeggiare sì saranno annessi inclusi immessi nel Guinness dei primati questi uomini che bevono la birra Guinness sono dei primati se siete le scine dicevo uomini sono un paroliere se leggerete questo libro impazzirete quindi io parlo male di ciò che so ed è inutile che vi stia specificare tutto l'andirvieni, il caravanzerraglio ecco di retropensiero ciò che io imparai da autodidatta e forse mal m'applicai sì partì prevenuto nei riguardi di questo film poi l'ho veduto e non ho ravveduto la mia posizione ora questa è un'espressione no quella è proprio in stato catatonico tipo De Niro di un boss sotto stress gli pianta Billy Crystal sono un po' stand up comedian ho anche scritto il libro il commediante lui sì versione Ralph Fiennes di Spider allora poveri nerd che giocavate a Doom Duke Nukem 2D leggevate The Games Machine realizzeranno prima o poi Frankie Machine con De Niro no il regio è passato a William Fricchi esperto di possessioni metafisiche sì sì quel demone pazuso e l'ho scritto nel commissario Faloma che c'entra leggerete è un bel coglione perché ora quella Blairly non è come la pornatrice adesso ritirata ma tanti ne tirò Brian Blair poi Brian a bitch ma Brian a love sì sì beh anche Brian di love quello quando non prende love cioè quando non opula poi lo dicevo eh sì il diavolo non ha mai quello rosica quella brustolisce quello sarovella se si lì all'inferno si brucia lei cervella è maciullato nelle budella e io me ne sbudello sì sì perché i miei odiatori dovrebbero guardare avanti non guardare indietro agendo di loro dietrologie altrimenti lo piglieranno nel di dietro così come lo ricevette Jules Moore da Robert De Niro no Pantins il Cosmopolis no quella fu Juliette Binoche un paio di cosce comunque sì perché la brioche i cornetti e la crema sì che attore che attrice la crema della crema no Maps to the Stars Aldra Strunset anche se qui lo magnificai vabbè un ritratto un po' geografico sì questo invece è un autoritratto ora Ratti voi che siete ritrosi soffrite di ritrosia e vi ritirate poi mentite anche voi da soli tante ve ne tirate ma lui lì se la tira non sanno cazzo suo anzi cazzo suo perché quanti le ha voi ritrattivi ritrattivi non ritrattate in quanto correte ritirata ritirata e ve la tirate pure ah ma cosa matta proprio allora un ragazzo che scusate ti sei preso la laurea mi diceva sempre quando andavo nel suo paese nativo Stefano non è che se ti lascio solo stasera mi combini qualche vedete l'elocchio a farsi fotrecco qualche scatash che sarebbe scatafasce non scatash che cos'è lo scatash Stefano siamo uomini di mondo non è che stasera che poi i padri di queste qui guarda che quelli ti fanno il culo se rimangono incinte non ci sono problemi perché Stefano che non c'è dire non me ne può fregare nemmeno di ste zoccolè ecco come so ste il grande Mario Brega di un sacco bello cosa fascia fascia a me a zoccolè che so due ore che stai a mastica quindi sta da ciancicare solo sputtanate come quell'altro no quello lì che ho visto l'ultimo film di Cruoni che dopo due ore di proiezione ero misto sinù sì c'è lo stato della catatonia rimanere statici così e anche i statici da cui la sindrome di Stendhal ma questo Stendhal qui fu l'autore è morto non c'è sta più come Fu Cimin sostenne il grande Dante Cruciari dei soliti idioti lui era cinese si è stato in Cina fra l'altro uomo di lettere Vittorio Gallo no fu nel senso che ormai Cimin era venezieno ecco quindi è stato anche omaggiato al festival di Venezia questo Cronenberg ma dopo queste due grandi cagette dovrebbe andare lì se ha un po' di stima per se stesso d'amor proprio e dire questo leone questo leone quando presentò Ed Angelus Method da questo leone in poi sono diventato come Keira Knightley ho perso la cap e me la sono montata che lì se la montano sia Evans e Cassel in stile Robert Pattinson con Julien Moore e Juliette Pinoche che Michael Fassbender chi piace quella alle donne adesso uscirà col nuovo film di David Finch e The Killer ripeto ripetita Juventus è uno juventino no Juvent Juve questa è la mano sinistra perché la mano il piede era sinistra era un mangino ma mangini quel calciatore allenatore dell'Italia no non ci siamo classificati per il mondiale ambidestro quello lì che cos'è la destra cos'è la sinistra Giorgio Gabber ma lo sapete è inutile essere pleonastici ribadire l'ovvio le ovvietà quindi mi par duopo ma siamo uomini e caporali ecco dice mi sono perso la tristezza la solitudine la malinconia che ti adombra però ti ammanda anche di quell'aura diciamo aura non laura e non aurea quella ce l'hanno gli angeli i cherubini è chiaro cari giovanotti come Lorenzo Lorenzo e i cherubini sono avendo un totò diabolicus penso uno più del diavolo scusate ora qui la faccia da Tim Curry del clown Pennywise no di Legend c'è tutto adesso ci vuole la voce qua così e di Tom Cruise te la sei scopata Kelly dopo dopo avrebbe girato Top Gun ma quale Top Gun non diciamo è una cagata sì è la mia vicina di casa cosa è successo a Tim Curry di Miglioras proprio per questo proprio per questo perché la figlia ragioniera ha trovato un saldatore non riesce a avere figli ma glielo saldo qualche volta poi compro i vestiti i saldi tutti scontati una vita scontata una vita già pianificata appianata diciamo secondo quelle che sono le metriche no dei piani regolatori del vai piano del chi va piano va sano e va lontano però il marito glielo dà nell'anno allora la buttiamo sul porcellesco rispetto a a questa porcata che è Crimes of the Future Porchis che lì c'è il genitivo Sassone è un masterpiece ho detto che così scusi ah quindi uomini scusate se siete un po' bacati picchiati ancora le volete eh non sono bastate le bastonette eh arriveranno ti spacco il set nasale guardi te raglio tutto tutto eh questo è chi è è uno spastico no questo è Bruce Campbell dell'armata le tenebre senza effetti speciali ma non è niente speciale anche questo quanto è brutto quanto è brutto insomma questo è farina temi un sacco uomini dai alle prossime lezioni che saranno il 25 settembre votate blu blu task John Belushi perché come sostiene grande Andrea Roncato tempo d'estate a Capulc prima spiaggia Sinis che a Capulc dai che quello non ha l'era dai ma si vede un po' di peluche qui ci diamo il martellino votate il falò per un mondo più ballerino non martellino basco faccio il martello dai non fare comunis so che anche tu sei un capital un iconis dai tu sei vero fancazisti è chiaro chiariamoci su questo fatto il pubo di oro c'è su una lavoramenta Juventus Milen un diavolo per capello allenato da Milano capello più l'e basta con le ore da stadio chiaro un po' di contegno che dito caramelline alpen libe buone queste cosa sono delle bombonierine bombom 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 non lo so di poi tom stall sarrabbe spacca tutto cosco il po' tu tata stufa ci vuole un calmante mettetelo nella clinica assieme a quella Sabrina Sabina insomma ecco il ratto delle Sabine che caldo dicevo adesso mi sono perso nel marasma diciamo nel delirio sì nei dedali stradali no nelle circonvallazioni neuronali labirintiche del mio essere impazzito come Jack Torrance che Cronenberg criticò Kubrick non sapeva che cazzo stesse facendo anche lui con questo film Shining lì doppiato da Giannini quando è quando è quando è quando è quando è basta sapete solo imitare gli attori dovete farlo il cinema dovete scrivere il cinema e dovete un po' dai forza siete sul mosso qui dai allora uè babacione quindi prima di pronunciarvi contro di me io sarei molto cauto ci penserei due non c'è due senza tre you understand stand se non to stand però on the block not pupu stop va bene così a posto